Picchierare perché? No, voglio dire, la maggioranza non si butta subito a letto senza parlare un po', gli pare troppo stile ufficio. Oh, non per me, vedi io no, mi avresti illegato. Tutto quello che vuoi, prima però sistemiamo la parte monetaria, così ci possiamo rilassare. Assolutamente, vediamo, tu prendi 200. Sì, esatto. Ecco qua. Ok, allora tu vuoi che ti leghi, giusto? Sì, legami, e poi vorrei che mi picchiassi un po' e mi facessi un pompino. Ok, un pompino e ti picchio. No, no, mi picchi e poi mi fai il pompino. Se l'ordine non è quello giusto, non mi diverto. Legami, picchiami e fammi un pompino. E con che cosa ti devo legare? Beh, ecco, veramente pensavo che portassi le calze e così, non... Cookie, sei decisamente un artista, non c'è dubbio. Le tue labbra dovrebbero stare all'Uvra. Ci hai messo un bel po', credevo che non ce la facessi. Beh, avevo qualche problemino di messa a fuoco. Alla fine ho trovato la fantasia giusta e così. Ho pensato a una donna che ho visto oggi sulla 6-7 e l'ho accoppiata con Svetlana Stalin, figlia del dittatore. Ha funzionato, pare. Per che cosa le prendi quelle medicine? Io? Per la depressione. E per che cosa sei depresso? Depresso? Tu non sei mai stata depressa? Cioè, il tuo lavoro non ti butta giù? Non so... Oh, sempre meglio che fare la cameriera. Sai che buffo. Tutte le puttane con cui ho parlato dicono che è sempre meglio che fare la cameriera. Fare la cameriera deve proprio essere il peggior lavoro del mondo. Incredibile. Come mai sei triste? Beh, sono in bancarotta spirituale, sono vuoto. Cosa vuol dire?